Ponti è lieta di annunciare che l'aceto balsamico di Modena ha ottenuto l'IGP, il riconoscimento dell'alta qualità di un prodotto italiano. Ma cosa c'è dietro tutto questo? Le uve di sette vitigni selezionati e le botti di legno pregiato e i controlli accuratissimi. Dai venite nella bottiglia. Dove nazi? Cosa fa? Un controllino e i ponti sono fissati con i controlli. Allora si precipita Grazie a tutti.